Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Bologna si viaggia in coda tra Calenzano e il BV1 variante, rallentamenti verso Roma tra Valdarno e Arezzo. In A11 in direzione Pisa coda per traffico tra Firenze Ovest e Prato Est. In Fipilin in direzione Livorno si viaggia in coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino, in direzione opposta tra Empoli Est e Ginestra Fiorentina. Rallentamenti in uscita Firenze Scandici provenendo da Livorno. Coda per lavori in uscita a Ginestra provenendo da Firenze. Ricordiamo che sono in corso in Fipilin i lavori di riqualificazione tra Montelupo e Empoli Est. In questa fase dei lavori fino al 30 maggio è previsto il doppio senso di marcia nella carreggiata in direzione Firenze con la completa chiusura della carreggiata in direzione mare. Lo svincolo di Montelupo resta chiuso in entrata in entrambe le direzioni e in uscita provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!